Tira No No Dopo esser stati umiliati per due volte di fila dai nostri avversari che erano la squadra della settimana andremo contro giocatori più del nostro livello nelle... non so cosa dovrei schiacciare quindi faremo partita veloce già contro la Royal Muscron questa squadra che è inferiore in tutto rispetto a noi siamo in grado forse di vincerla di sconfiggerla parliamo possiamo credo in noi gioca partita voglio questa e io mi prendo questa qui perché con l'altro ho sempre perso i comandi semplificato perché non so giocare nell'altro no cross, basso e raso terra non è vero non lo fai mai così ci provo sempre ho male al posto non so metter ok il nostro eroico giocatore olè si prende gioco degli avversari finalmente che può non ha dei mostri oh grazie dio sì ma contro sti tizi gli entro anche in porta ecco il giocatore ci posso provare in real football 13 lo facevo vincevo 20 a 0 le partite passaggia passa perché nel primo video ho detto solo passaggia non so per quale cazzo di motivo non esiste neanche come termine olè olè te li sei fatta fottere perché ogni tanto mi preme dietro non no preme il pulsante volevo dire dai corri vince un contrasto oh che bello poter vincere un contrasto passala in mezzo accentrati il tiro da fuori no ci è andato vicinissimo parliamo no vicinissimo forse no quello è morto non l'ho toccato giuro e l'arabi e l'arabi corre tutto solo tutto solo tutto solo il tiro non ci credo no no non è possibile non è possibile non è possibile voglio modalità ultra attaccante che cazzo dai triangolazione riuscita perché mi preme lì fa schifo sta cosa adesso se mi segna io bestemmio in aramaico no 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 guardate cosa è successo la prende in braccio gli scivola la palla rimbalza lo scarta si gira entra per un secondo esulta malissimo e poi va a compenetrarsi con la rete quando io faccio i pali perché no io adesso faccio scivola uccidili uccidili va bene perché ti prego siamo al 41esimo ragazzi io non ho tirato eh si scartalo cazzo perché stai lì fermo come un idiota ho sputato sullo schermo già proprio così presa lo cazzo no si difensiva perché io non posso permettermi di perdere anche adesso in difensiva manderò solo il mio eroico e l'arabi e l'attacco ti prego supplico te no eh no e non lo posso accettare no no e no eh grazie anche un passaggio un passaggio certo un palo a loro perché perdi i contrasti oh adesso segno no adesso segno e ne sono certo scusa guardate dove la linea di difesa quanto cazzo corre sto qui no eh dai prendila prendigli quel giocatore lì mi sta sulle palle sono sono tutti uguali questi giocatori di colore ma mi stanno sulle palle perché corrono manco volte guarda guarda gli altri mi scartano dai scartigli la palla in qualunque modo dai non posso prenderle due a zero così non so non so a chi tu l'abbia passata hai provato il filtrante tu scartalo cristo scartalo ok 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 no 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 dai prendi no eh scivola uccidetelo picchialo malmenalo para va bene contro una squadra così di merda no un altro calcio d'angolo no ecco va al tiro lo stesso di prima tira la via mi servirebbe un attaccante veloce con un attaccante veloce le stramincere io ne faccio un'altra non mi interessa che stia venendo un episodio di quanti di quanto siamo già a 6 minuti ci stiamo ci stiamo cosa ho schiacciato gioca partita veloce lascio ulla che fa schifo veramente schifo 75 quant'è di velocità scheda e l'arabi e lui di velocità perché non posso sapere quanto ha di velocità ah ok 72 ebbè non è neanche così male gioca se le simulassi le vincerei verdi contro rossi questa qua che non so se sia la maglia del Torino o della Roma forse più della Roma che del Torino ma sono simili come maglie dai e l'arabi ok prima mi sono preso il gioco della squadra all'inizio hanno vinto 2 a 0 quindi cercheremo di fare una cosa più intelligente perché cazzo di motivo la tiri indietro donna questo gioco mi fa incazzare in una maniera assurda prendiglila dai che mi viene anche mal di testa perché non ho la luce ti prego para oh grazie no 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 perché potevi vabbè rimessa non ti fare grazie grazie ok mo corri 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 come non hai mai corso in vita tua non farti scartare perché vi scartate tra di voi razza di incapaci fate schifo proprio eh dai ma cos'è ma non si può giocare scivola oh fallo tattico che mai visti almeno pareggiarla 0 a 0 ho avuto paura tirala così a cazzo eh ti prego olè e la prende dai no che non succeda questo che non succeda no non era fallo non era fa pallonetto vai così corri corri come non hai mai corso l'ho già detta sta cosa ma non importa no e no non adesso eh e non adesso perché perché fai tanto schifo ho un attacco che fa cagare se se ci mettessi le giovanili dell'avellino vincerei di più sì avrei voluto un passaggio filtrante ma non importa mi sono appena rendere conto di non aver commentato per un quarto d'ora circa ok 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 passa in centro tira no no non ci credo non ci credo e no e no e no 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 e no però no è maledetta è una cosa maledetta tira oh grazie signore ti prego la capriola bravo non è un gesto grandemente atletico ma almeno guarda oh ve la faccio venere stazione è stata bellissima è stata bellissima a giro si ferma questa mi è piaciuta l'ho fatta io l'uno a zero dopo aver preso 58 pali un palo traversa ha fatto di tutto è successo di tutto no eh e no eh e no eh corri corri sulla fascia altra fascia che mi trovo meglio perché è più zoomato lo schermo no please no please no please oh passa lì passaggia no passaggia mi porta a stiga quando lo dico la ti prego dai dai ok mi ha fatto un inserimento bellissimo davvero no eh no eh no il tizio veloce no eh no pre ok siamo all'ottantottesimo sono in vantaggio dai che forse questa è la mia prima vittoria dai così finisci tocca sto cronometro e vince e vince direttante pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepeopepepepepepepepepepepepe Grazie per aver visto questo video E al prossimo episodio Se ci sarà